Il 9 e 10 novembre in Emilia-Romagna, in provincia di Reggio Emilia, si terrà al Teatro Pedrazzoli la prima nazionale del mio romanzo, Mare Nero, che viene trasformato in un'opera teatrale che rientra nel circuito nazionale. Per me è una grande soddisfazione da scrittore di romanzi avere un'opera che va a teatro a fianco a Shakespeare e ai capisaldi del teatro mondiale per me è motivo di soddisfazione. Come testo Mare Nero aveva già avuto un grandissimo successo, tante ristampe. Sì, 37 ristampe, 250.000 copie vendute, un'opera che narra di un viaggio della speranza dalla Libia a Lampedusa di 80 disperati in barca, il classico viaggio in una carretta del mare ed è un'opera che ovviamente spero possa essere conosciuta in un futuro anche nel mondo scolastico attraverso l'interesse da parte del Ministero per un'opera che potrebbe veramente far parte di un programma di studi. Come la vedi inscenata al teatro? Daniele Salvo, che è un regista con una storia e con un passato importante, ha creato questo adattamento teatrale, opera che vede in scena una compagnia di Novellara in provincia di Reggio Emilia. Io ho portato questa storia nella letteratura nel 2005 e a distanza di 14 anni questa storia si è moltiplicata, ha fatto non solo lettori ma anche ha creato tanto interesse sia nel mondo teatrale che anche nel mondo cinematografico. Mi auguro che questa rappresentazione teatrale e il successo di questa rappresentazione teatrale possa poi trasformarsi in qualcosa di ancora più prestigioso.